Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura centrale nella storia del Portogallo del XX secolo. Nato a Vimiero il 28 aprile 1889, Salazar è salito alla ribalta come economista e politico, diventando primo ministro del Portogallo dal 1932 al 19681. Durante il suo mandato, ha fondato e guidato l'Estado Novo, un regime autoritario corporatista che ha governato il Portogallo fino al 19.741. Educazione ascesa al potere Salazar era figlio di una famiglia di agricoltori e, dopo aver studiato in un seminario, si è laureato in giurisprudenza all'Università di Coimbra nel 19.141. La sua carriera politica ha preso il via quando è stato nominato ministro delle finanze nel 1928, posizione dalla quale ha iniziato a esercitare un'influenza significativa sulla politica portoghese. L'Estado Novo L'Estado Novo di Salazar era caratterizzato da una forte censura, una polizia segreta efficiente e una politica di neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regime si è anche distinto per il suo colonialismo, mantenendo il controllo su vasti territori in Africa, Asia e Oceania. La caduta di Salazar è avvenuta in modo quasi romanzesco. Nel 1968, ha subito un ictus cerebrale a seguito di un incidente domestico e non è più stato in grado di governare. Il suo regime è sopravvissuto fino alla rivoluzione dei Garofani del 1974, che ha segnato la fine dell'Estado Novo e il ritorno del Portogallo alla democrazia. L'eredità di Salazar L'eredità di Salazar è complessa. Da un lato, è ricordato per aver mantenuto la stabilità finanziaria del Portogallo e per aver evitato l'invasione nazista, durante la guerra. Dall'altro, il suo governo è stato segnato da repressione politica, violazione dei diritti umani e mancanza di libertà civili. In conclusione, Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura controversa, il cui impatto sul Portogallo e sulle sue colonie è ancora oggetto di dibattito. La sua dittatura, una delle più longeve d'Europa, è stata caratterizzata da un mix di stabilità economica e oppressione politica, lasciando un'eredità che continua a influenzare l'opinione pubblica. Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura centrale nella storia del Portogallo del XX secolo. Nato a Vimiero il 28 aprile 1889, Salazar è salito alla ribalta come economista e politico, diventando primo ministro del Portogallo dal 1932 al 19.681. Durante il suo mandato, ha fondato e guidato l'Estado Novo, un regime autoritario corporatista che ha governato il Portogallo fino al 1974. Educazione ha sceso al potere. Salazar era figlio di una famiglia di agricoltori e, dopo aver studiato in un seminario, si è laureato in giurisprudenza all'Università di Coimbra nel 19.141. La sua carriera politica ha preso il via quando è stato nominato ministro delle finanze nel 1928, posizione dalla quale ha iniziato a esercitare un'influenza significativa sulla politica portoghese. L'Estado Novo, l'Estado Novo di Salazar era caratterizzato da una forte censura, una polizia segreta efficiente e una politica di neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regime si è anche distinto per il suo colonialismo, mantenendo il controllo su vasti territori in Africa, Asia e Oceania. La caduta, la caduta di Salazar è avvenuta in modo quasi romanzesco. Nel 1968, ha subito un ictus cerebrale a seguito di un incidente domestico e non è più stato in grado di governare. Il suo regime è sopravvissuto fino alla rivoluzione dei Garofani del 1974, che ha segnato la fine dell'Estado Novo e il ritorno del Portogallo alla democrazia. L'eredità di Salazar è complessa. Da un lato, è ricordato per aver mantenuto la stabilità finanziaria del Portogallo e per aver evitato l'invasione nazista, durante la guerra. Dall'altro, il suo governo è stato segnato da repressione politica, violazione dei diritti umani e mancanza di libertà civili. In conclusione, Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura controversa, il cui impatto sul Portogallo e sulle sue colonie è ancora oggetto di dibattito. La sua dittatura, una delle più longeve d'Europa, è stata caratterizzata da un mix di stabilità economica e oppressione politica, lasciando un'eredità che continua a influenzare il Portogallo moderno. Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura centrale nella storia del Portogallo del XX secolo. Nato a Vimiero il 28 aprile 1889, Salazar è salito alla ribalta come economista e politico, diventando primo ministro del Portogallo dal 1932 al 1681. Educazione ascesa al potere Salazar era figlio di una famiglia di agricoltori e, dopo aver studiato in un seminario, si è laureato in giurisprudenza all'Università di Coimbra nel 19.141. La sua carriera politica ha preso il via quando è stato nominato ministro delle finanze nel 1928, posizione dalla quale ha iniziato a esercitare un'influenza significativa sulla politica portoghese. L'estado nuovo di Salazar era caratterizzato da una forte censura, una polizia segreta efficiente e una politica di neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regime si è anche distinto per il suo colonialismo, mantenendo il controllo su vasti territori in Africa, Asia e Oceania. Nel 1968 subisce un ictus cerebrale a seguito di un incidente domestico e non è più stato in grado di governare. Il suo regime è sopravvissuto fino alla rivoluzione dei Garofani del 1974. L'eredità di Salazar è complessa. Da un lato, è ricordato per aver mantenuto la stabilità finanziaria del Portogallo e per aver evitato l'invasione nazista, durante la guerra. Dall'altro, il suo governo è stato segnato da repressione politica, violazione dei diritti umani e mancanza di libertà civili. In conclusione, Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura controversa, il cui impatto sul Portogallo e sulle sue colonie è ancora oggetto di dibattito. La sua dittatura, una delle più longeve d'Europa, è stata caratterizzata da un mix di stabilità economica e oppressione politica. In conclusione, Antonio de Oliveira Salazar è stato una figura controversa, il cui impatto sul Portogallo e sulle sue colonie è ancora oggetto di dibattito. Quali sono le opinioni contrastanti su Salazar? Le opinioni su Antonio de Oliveira Salazar, il dittatore portoghese che ha retto il paese per oltre 40 anni, sono complesse e spesso contrastanti. Vediamo alcuni aspetti chiave, stabilità economica versus. Oppressione politica, pro, Salazar è ricordato per aver mantenuto la stabilità finanziaria del Portogallo durante il suo regime. Ha evitato l'invasione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e ha dato le basi delle azzorre agli alleati. Contro, il suo governo è stato segnato da repressione politica, violazione dei diritti umani e mancanza di libertà civili. La censura era forte, e la polizia segreta, Pide era efficiente. Colonialismo e impero, pro, Salazar ha retto un immenso impero coloniale che si estendeva dalla Guinea al Mozambico, da Timor-Est a Macao. Questo ha portato a una certa grandezza e influenza del Portogallo nel mondo. Contro, l'impero coloniale ha comportato sfruttamento, oppressione e violenza nei confronti delle popolazioni locali. Calcio e distrazione di massa, pro, Salazar ha dato ampio spazio al calcio come parte del suo credo FFF, Fado, Fatima e Football. Ha usato lo sport per distrarre le masse dalla difficile situazione economica del paese. Contro, il calcio era una vera e propria arma di distrazione di massa, e le squadre di Lisbona dominavano la Primera Liga durante il suo regime Curiosità. La sua esistenza non si era discostata di un millimetro dalle solite abitudini fino a quel momento. Il suo impero portoghese cade per colpa di un semplice e umile callista in conclusione. Salazar è una figura controversa, con un'eredità che continua a influenzare il Portogallo moderno. La sua dittatura ha lasciato un segno indelebile sulla storia del paese, e le opinioni su di lui variano a seconda del punto di vista e dell'analisi storica.